Oggi andiamo a vedere la corazzata premium di livello 7, tedesca Sharnost Manca da un po' di tempo sul mio canale, eccola qui come appare all'interno del quadrato di gioco Possiamo apprezzare i suoi cannoni, ha una linea molto molto bella Per quanto riguarda la mimetica non mi fa impazzire Questo grigio, poi questo nero messo così, la mimetica non tanto mi piace La forma, la linea della nave invece è davvero molto bella E possiamo notare anche che questa nave, ve lo dico fin da subito, ha i siluri Siluri che possono arrivare, eccola lì la torretta che si muove Possono arrivare fino a 6 km Perfetti nello scontro 1 contro 1, magari contro una corazzata nemica Abbiamo diverse bandiere da combattimento, dovrebbe esserci anche qualche bandiera da economica Eccola qui come appare Siamo nella mappa due sorelle in modalità battaglia standard Siamo accompagnati da Lix con la Colorado e da Noctiferous con la Shorts Siamo in un matchmaking con navi di livello 7 Ogni tanto grazie che giochiamo anche noi con navi dello stesso livello Perché puntualmente dovete sapere ci capitano navi di livello superiore Ma ormai ci siamo abituati Siamo contro 4 caccia torpediniere E qui è un problema molto serio Perché già si vede che il nostro cacciatore periniere sta pensando di andare centrale Una cosa che non bisogna fare nella maniera più assoluta Ora, se qualcuno carica dei video dove fa il devasto centrale Prende alla sprovvista le navi nemiche Una cosa che succede raramente Perché lì ovviamente quando tu vai centralmente Soprattutto nelle prime fasi di partita Le navi nemiche sono ancora Adesso il mouse non posso Non ho il mouse per farvi vedere il cursore Sono comunque sia ancora sull'attenti E possono spararvi sia da destra che da sinistra Voi immaginate una nave che esce in questo momento per cappare la base nemica E loro hanno ancora le corazzate come vedete Una a sinistra e una a destra C'è un fuoco incrociato dalla quale il nostro cacciatore periniere O la nave X Sicuramente farebbe molta fatica a resistere Abbiamo la possibilità di recuperare vita 4 volte Abbiamo l'aereo fighter Abbiamo il tasto di riparazione Abbiamo i siluri Abbiamo cannoni Dovrebbero essere da 203 Ora ragazzi vado a memoria Perché ricordarsi tutte le cose è veramente difficile C'è una cosa però che volevo dirvi Sì, eccola subito Se volete provare il gioco come sempre Completamente gratuito Il link è in descrizione Il link vi dà accesso a due navi premium L'incrociatore Diana di livello 2 La corazzata Warspite inglese di livello 6 Più una serie di vantaggi Come ricevere questi vantaggi? Semplicemente Giocando Dovrete semplicemente giocare Ora Io vorrei ben capire i nostri cacciatorpedinieri Perché nessuno dei quattro Si sta allargando per cercare di 1 spottare E 2 Andare ad incrociare Quelli che sono i cacciatorpedinieri nemici In questo modo Noi allo stato attuale Non vediamo eventuali Nemici Sulla colonna 1 E sulla colonna 2 Quindi se c'è un cacciatorpedinieri Che ci sta aggirando Noi siamo Completamente all'oscuro Di questa loro manovra La Sharnost E' una nave Molto divertente Devo essere sincero Forse fra le più divertenti Insieme alla Tirpitz Vabbè A me piacciono le tedesche Per le armi secondarie Ma questa è un'altra storia Però Ripeto E' un matchmaking Piacevole Può incontrare navi Anche di livello Abbastanza Facili Da gestire Se vai contro le navi Di livello 9 Già le cose Per questa nave Si complicano Ulteriormente Tra l'altro ragazzi Lo dirò in ogni video Scusate se sono ripetitivo Però vi devo ringraziare Perché puntualmente I video Sono molto apprezzati Vi invito Come sempre A lasciare un bel mi piace A commentare A condividere Utilizzate In tantissimi Utilizzate il mio link Quindi segno Che il gioco Piace a tante persone Vogliono provare Un'esperienza nuova Qui su World of Warships E in generale Comunque Per il vostro supporto Per i suddetti Mi piace E quant'altro Qui arrivano dei siluri E quello che Io sapevo Che questa cosa Sarebbe successa Se nessuno Dei due cacciatorpinieri Va a spottare E' normale Che i siluri nemici Non tardano Ad arrivare Mi sa Fa anche rima Purtroppo Una cosa tragica Arrivano dei siluri Su delle navi Fondamentalmente ferme Qui prendo una decisione Di fondo In questo preciso istante Decido Qui ho chiesto Più volte Gentilmente Mi servono Informazioni Cosa vuol dire Andate a spottare I cacciatorpinieri Che sono Sicuramente All'incirca In E2 Perché arrivano i siluri Dalle nostre parti I cacciatorpinieri Poi tra l'altro Abbiamo una 039 Fornite di ricerca Itrofonica Che è proprio Della serie Io non vado Vacci tu Accolgo la Come dire Leggo Leggo tra le righe Quindi decido Di andare A spottare La nave Inimica Perché ragazzi Qui o vado io O non va nessuno O la nave più agile O la nave Che meglio Si può anche adattare Ad alcune circostanze Nel gioco Ravvicinato Vedi le armi secondarie Vedi i siluri Che ho citato Poc'anzi E quant'altro Abbiamo tra l'altro Uno skein Abbiamo anche Una Z39 Nessuno Dei due Va a spottare Le navi Sulla colonna 1 Sulla colonna 2 Vuol dire Che loro hanno Ma è una cosa risaputa E l'abbiamo capito Tutti quanti Delle navi Davanti a noi Che continuano A lanciare I siluri Lì vediamo Andiamo a fare Un primo sangue Con pochi danni Ci prendiamo giusto Il riconoscimento Il lennesimo Riconoscimento Primo sangue Dovrei averne Non so quanti Di primo sangue Sono davvero tanti Andiamo contro Quella iudaci Dobbiamo andare Ragazzi Cioè Non ci sono altre Alternative Noi In questo momento Se non leviamo Dalla partita I cacciador penieri Che sono alle nostre spalle Non possiamo Continuare Non possiamo Minimamente Pensare Di andare Contro le corazzate Sulla nostra Sinistra Qui Sono costretto Ad andare Tra l'altro C'è un altro cacciador penieri Eccolo lì Vedi Quello che ho detto All'inizio Ci hanno accerchiato C'è la Z39 Nemica In C1 E i nostri cacciador penieri Erano in F4 Nessuno che si è allargato Io Per questo motivo Tra l'altro Non ho preso Una Come dire Una posizione Avanzata Fin da subito Perché ho visto Che i nostri cacciador penieri Qui guardate Guardate lo skein Va dall'altra parte Sta scappando Anziché andare a spottare Le navi nemiche Non ci voglio credere Qui ci prendiamo colpi Su colpi Però ripeto ancora una volta È una cosa doverosa Andiamo a leggere Il lancio Il lancio dei siluri Del cacciador penieri Nemico Finalmente Arriva la Z39 A supporto Per cercare Di identificare E sconfiggere I cacciador penieri Nemici E cosa ancora più importante Inizia a sparare Le colpi Sulle Suddette Navi Nemiche Siamo fermi A 14.000 punti In 8 minuti In 6 minuti In 7 minuti Non abbiamo fatto molto Abbiamo fatto molto poco Però Io Guardate A inizio partita L'ho detto anche I miei compagni di clan Ero Convinto E terrorizzato Che cacciador penieri I nemici Potessero darci fastidio Fin dalle prime fasi Della partita E infatti Così è stato Abbiamo ancora Delle navi Sulla sinistra Vedete Eccolo Io sono Qui lo skein Poi va a pescare Un jolly Inaspettato Ovvero va a detonare La judaci Almeno una cosa positiva Un po' di fortuna Ci sta Andiamo contro La 039 Abbiamo armi secondarie Abbiamo Le HE Abbiamo tutto quanto Puntato su quella nave Tutti quanti L'attenzione massima Deve essere puntata Sulla 039 Una volta distrutta La 039 Possiamo finalmente Pensare di dare Come dire Di concentrarci Sulle navi Che nel frattempo Se ne stanno Allegramente Approfittando Perché insomma Hanno tiro facile Sul di noi Ancora una volta Armi secondarie Armi secondarie Abbiamo quasi ricaricato Andiamo a sparare Vediamo se riusciamo A portare la killa a casa Finalmente Dopo una Diciamo Dopo molti minuti I due cacciatorpedinieri Che sono Su questo lato Sono completamente Stati distrutti E qui Abbiamo un doppio risultato Positivo Perché I nostri cacciatorpedinieri Sono vivi E hanno La possibilità Di avvicinarsi Alle navi nemiche Per dare ulteriore Fastidio Quindi Adesso per loro Le cose qui Potrebbero Complicarsi Abbiamo una York che Veramente Mi sta sparando Da non so quanto Comunque sia Facciamo una bella Virata secca a destra Ancora con Le HE 1900 Abbiamo una colorado A 6000 Vediamo se riusciamo A beccarla Noi abbiamo perso Tantissimi punti di vita Abbiamo tankato Circa un milione Abbiamo fatto Solo Solo 30.000 danni Però ripeto Ancora una volta Abbiamo levato Questa nostra incursione Sulla colonna 1 Ha portato Alla distruzione Dei cacciatorpedinieri Nemici In qualche modo Ho invogliato I nostri cacciatorpedinieri Ad affrontare Quei nemici E' una cosa fantastica Andiamo contro La Nagato Anche se è una nave Abbastanza pericolosa Qui andiamo a mettere Poi le HE Un rimbalzo Perfetto Avviciniamoci Magari entriamo Nel raggio Delle secondarie Qualche incendio Potrebbe Eserci di aiuto Abbiamo fatto Solo 29 colpi D'arma secondaria Abbiamo 27.000 punti Abbiamo dato Tantissimo In questa Prima fase Di partita Siamo a 2 kill Un piccolo incendio A bordo Della nave nemica Quasi 3.004 Perforazioni Vediamo Lui qua Va ad evitare In maniera Molto Efficace E precisa I siluri Dello skein Che a tutta una volta Ha deciso Di iniziare a sparare L'avesse fatto Contro i cacciatorpedinieri Saremmo stati Tutti Molto più felici Andiamo a mettere L'AP È rimasto Con circa 3.000 punti Le armi secondarie Iniziano A sparare A sparare Iniziamo a fare Sarese La nostra È un 70% È più Un incrociatore Da battaglia Pesante Se volessimo Utilizzare Un termine Più corretto E appropriato Non è una corazzata, è una corazzata con la C piccola, ecco così suona bene Sappiamo che abbiamo la Sinop davanti a noi e come ho detto precedentemente questa nave ha i Siluri Quindi se 2 più 2 fa ancora 4 nel 2020 dobbiamo fare semplicemente una cosa, dobbiamo andare contro la corazzata sovietica Loro sono rimasti in 3, 5776, mi rendo conto che è in netta difficoltà la Sinop Però vorrei ben dire, all'inizio eravamo noi in difficoltà perché avevamo i cacciatori perinieri che lanciavano i Siluri Sebbene ricordate centralmente rispetto alla nostra posizione, è la loro Poi abbiamo pushato i cacciatori perinieri e sono stati distrutti Nel frattempo ci stavamo prendendo le sberle dall'annagato e tutti gli altri Quindi è il momento della Sinop di cedere qualcosina sotto forma di punti vita Le sue armi secondarie ci vanno a fare tra l'altro un incendio molto fastidioso Andiamo qui ad assorbire come possiamo 8124 ci è andata molto bene Lui sta ricaricando e qui mentalmente contiamo il tempo di ricarica della Sinop Per essere ancora più precisi potete utilizzare il timer che avete in alto a destra Così saprete che, non so, esempio, la nave ricarica in 30 secondi Se ha sparato a 7.30 vuol dire che a 7 minuti avrà il tiro carico Io vi consiglio di contare sempre qualche secondo in meno perché potrebbe avere scarica di adrenalina E quindi sparare quei due secondi prima Andiamo a mettere due Siluri a segno Vediamo se arriva... sì, arriva, arriva la quarta kill E qui cosa manca? Cosa manca in questa partita? A questo punto dobbiamo fare una singola kill per portare a casa il Kraken Un Kraken che è stato cercato... non cercato È stato, come dire... la partita ci ha messo davanti a questa possibilità di ottenere il Kraken E che fai? Te ne privi? Ci proviamo Non sarà facile, vediamo se arriva una C... no Non arriva nulla Arriva un 4000 Abbiamo ancora 16.000 punti Non possiamo più recuperare Dobbiamo semplicemente pushare per cercare di ottenere la kill La kill può arrivare sulle ultime due navi rimaste Abbiamo fatto 138 golpi d'arma secondaria 3 incendi, 4 kill e 60 golpi 60 hit Una falla e due Siluri messi a segno sulla corazzata sovietica Ora non ci resta che avanzare Qui, ancora una volta, come vedete, in basso a sinistra dice stop l'indicatore della velocità Però in realtà ero alla massima velocità Questa nave può raggiungere i 31.6 nodi Con la bandiera Serra Mike Una velocità apprezzabile Però ci sono navi più veloci Basti pensare alla Jean-Bart Con il suo boost mitico Oppure alla Georgia Ancora più veloce Fantastica Quando vanno così veloce è fantastico Abbiamo messo a segno sulla York Un colpo abbastanza carino Qua serve una cittadella O un colpo ben piazzato Vediamo Sembra buono No, non sembra buono Un rimbalzo e una perforazione Andiamo sull'altro incrociatore Continuiamo sulla York che ha dato fastidio fin dall'inizio Andiamo sulla York che ha dato fastidio fin dall'inizio Quindi proviamo Spariamo con tutti i cannoni Sembra buono No, non sembra per niente buono Perché lui ha fatto già una virata E quindi Lo andiamo a mancare del tutto Dobbiamo un attimo concentrarci E prendere la mira Cercare di rileggere la sua virata Destra, sinistra, fermo, indietro, avanti, diagonale, eccetera, eccetera Abbiamo sparato Questo sembra molto buono Questo sembra molto buono Vediamo se riusciamo È rimasto a 5.000 Colpi stanno cadendo tutti quanti insieme Arriva la cittadella Che non ti aspetti Scatenate il Kraken Obiettivo completato Risultati post scontro Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio per i like I commenti E le visualizzazioni E noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie.